Il presepe rotante con tutti i personaggi di Telequattro, questa volta Tiziano Palmisano, affezionato telespettatore della nostra emittente, si è davvero superato rappresentando nell'inedita natività tutti i volti noti della nostra tv, dai giornalisti agli ospiti delle trasmissioni ed ecco allora che dal direttore Bacciagli al vice Avarino, da Marco Stabile a Umberto Bosazzi, Laura Bucarella, Bernardo Gulotta e Gianluca Paladin si svestono dei panni tradizionali e indossano quelli di pastorelli, dignitari romani, magi e così via. Nella struttura cartonata che ruota spazio anche ai volti noti della politica regionale, sindaci, presidenti, assessori e consiglieri indossano aureole angeliche piuttosto che si accompagnano con un bastone in attesa di occuparsi delle pecorelle smarrite, colpisce la perfezione nel tratto dei volti dalla consigliera renziana Grimm al disturbatore leghista Slokar, dal Cosolini il pastore extra large, ad un di piazza ritratto invece con la classica camicia a scacchi con cui l'abbiamo già visto impegnato nella raccolta delle olive, poi tutti gli altri con addosso un fez piuttosto che un velo che richiama alle figure dei santi, insomma vena artistica e ironia shakerate insieme nella raffigurazione dei volti che giorno dopo giorno passano sugli schermi di Telequattro.